Salve a tutti ed eccoci con le anticipazioni di Beautiful che vanno dal 21 al 27 marzo. La triste verità purtroppo è venuta fuori. Hope e Finn hanno scoperto che i loro rispettivi compagni hanno passato una notte insieme, tradendoli. Hope è arrabbiatissima e delusissima. Trova in sua madre una spalla su cui sfogarsi e respinge le scuse di Steffi e quelle di Liam, ovviamente. Finn, invece, sembra essere più arrabbiato con Liam e convinto che si sia approfittato della debolezza di Steffi. Hope e Steffi hanno una discussione. La figlia di Brooke accusa la figlia di Taylor di aver tentato di distruggere il suo matrimonio. Di nuovo, Hope vuole assolutamente sapere se è Liam il padre della creatura che Steffi porta in grembo, ma la stilista le spiega che per ora è impossibile saperlo. Dovranno fare un test. Nel frattempo si consuma un diverbio tra Finn e Liam. Il medico spera che il figlio di Steffi sia il suo e dice allo Spencer che se sarà così dovrà assolutamente sparire dalle loro vite. Liam tranquillizza Finn. Non ama più Steffi, anche se è accaduto quello che non doveva accadere. E ora il suo unico obiettivo è quello di tornare insieme ad Hope. Gli importa solo il suo perdono. Gli importa solo il suo perdono.